Aula magna gremita di ragazze e ragazzi quest'oggi all'Università di Trieste per la giornata di presentazione dei corsi di laurea che vengono proposti per l'anno accademico 2016-2017 dell'Ateneo Giuliano. Quasi 9000 studenti che hanno completato la scuola superiore e che ora si trovano alle prese con la scelta su come proseguire gli studi hanno approfittato di questa opportunità per capire quale sia il percorso più aderente ai propri interessi e obiettivi da intraprendere. Abbiamo cercato di proporre delle presentazioni che non fossero solamente focalizzate sui contenuti dei corsi ma abbiamo utilizzato anche aziende che portano un po' un vissuto di quello che è il profilo professionale poi dei futuri laureati per i vari corsi di laurea, sono venuti gli ordini professionali abbiamo anche molti studenti in corso e laureati che cercano di far capire bene agli studenti cosa vuol dire studiare. Dalle scienze umane a quelle mediche, da ingegneria alle scienze biologiche della terra, da economia a giurisprudenza per citare solo alcuni degli indirizzi disponibili, la mattinata è trascorsa tra visite guidate a sedi e strutture esempi di lezioni, dimostrazioni, laboratori e colloqui con tutors e referenti dei corsi di studio per domande e approfondimenti. Cerchiamo proprio di proporre tante iniziative rivolgendoci anche alle famiglie che hanno magari bisogno di informazioni e che possono poi non influenzare in senso impositivo ma piuttosto condividere e discutere con i loro figli per capire qual è il percorso di laurea più adatto a loro. Una raccomandazione che viene rivolta a tutti è quella di non scegliere un corso di laurea in base alle prospettive di lavoro perché per conseguire il titolo servono in primo luogo passione per la materia e tanto impegno ed essendo consapevoli che l'università sarà al proprio fianco anche dopo il completamento degli studi. L'università per tutti i corsi di laurea fa davvero un grande investimento sui servizi di placement per cui li accompagna nel mercato del lavoro cercando di offrire una ampia gamma di opportunità. a livello del massiccio facciale terza mente e terza inferiore si occupa quindi